Lo vuoi presentare tu? Lo presento io? Ma se ne ha una voce che li fa presentare... Uno, due, tre... Chi è? Fabio! Eccolo! Fabio! Ma che sarebbe quello lì? Diciamo bene. C'è di uno che forse è morto. Fabius! Fabius! Non sta bene. Questo è il modello più forte. Fabius! Che bocci con il regale! Buonasera! 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 Buonasera Fabius! Fabius, benvenuto, il cervello gliel'hanno amputato da giovane, credo. Scusate, ma questo sta alfilando o cammina così nella vita? Nelle strade, nel suo salotto? Cammina così? Così, a poi con il culo è ancora più bello, te lo giuro. Eh sì, perché è che bello. Chi è quest'altro? C'è un altro modello, scusate, c'è un altro modello. C'è questo qua? Signorina, what's a spec... No, scusi, chi è lei? Sa dirmi che cosa è questo oggetto? È un calzino! Sì, certo, è una calza! E allora, scusi! Chi è quest'uomo? Scusi, cosa vuole lei? Vostro nome, vorrei interrogare un attimino gli imputati. Posso? Grazie. Signorina, what's a spec... No, aveva detto un altro nome, prima. Sono sue, queste braccia. E di chi devono essere? Sono nata così, sì. Eh certo. Sono nata così. Lei le usa spesso, queste braccia? Non la prenda in giro per come parla. Può tagliarsene una per cortesia? Ma perché dovrebbe? Scusi! Ma possiamo sapere cosa è successo? Scusi, non è che lei... È evidente che negli occhi della signorina, what's a spec... Sì? Dige la menzogna. Sì, sì. Signor, what can speak and spy and rock and squeak? No, è Fabius. È un amico, vuoi? No, mai visto. Vuoi farmi sentire il suo alito per cortesia? Ma perché dovrebbe? Scusi. Che cosa c'è? Com'è? Scusi. Lei ha un alito importante, lo sapete? Dove l'ha acquistata? Ma dove vuole che l'ha acquistata? L'alito si compra, eh? Lei ha il vizio di ridere, signorina Wasbeck and High and Race. No, si chiama Marcuzzi e lei ha sbagliato studio, ci scusi. Vostro onore vorrei porgere una domanda alla signorina... No, senta, ci hanno spiegato... Scusi, lei ha ucciso suo marito. Scusi, ma sì? L'ha annegato nella fonduta senza perdura. Scusi, ma sì? E poi giù a ridere, giù a ridere, giù a ridere. Non è bella, signorina, lei è bionda naturale, lo sa? Ci può ascoltare un secondo lo studio dove c'era sceneggiato l'inglese dell'Ottocento poliziesco? È quello accanto? Sì. Abbiamo chiarito ora l'equivoco, quindi se lei chiede scusa e cortesemente si leva... Arrivederci. Grazie. Non era un amico, no? No, 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 no. No, 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 no. Ma c'è a dirmi che cos'è questo oggetto? Che scherzo! Che baccalà!